Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è mercoledì 29 dicembre 2021, il sole questa mattina sorge alle 7.41 e tramonta alle 16.39, oggi si festeggia un santo particolare, un santo che appartiene al Vecchio Testamento, ma è un grande santo, ovvero si festeggia Re Davide, Davide il ragazzo che uccise in un duello il gigante Golia, che fu un grande re, ma fu anche un re peccatore, fu un re poeta, fu l'autore dei salmi che ci sono nella Bibbia, fu dicevo un grande peccatore che poi si pentì e chiese perdono a Dio, un santo dunque da riscoprire nel leggere la Bibbia. E vediamo ora le previsioni del tempo. Questa mattina a Sufano il cielo era sereno e brillava uno spicchio di luna. Ci saranno nubi irregolari sulle Marche nella giornata di oggi, specie in avvio della giornata, ma in un contesto ovunque asciutto. C'è anche un lieve rialzo termico, insomma non è più freddo come nei giorni scorsi. Le temperature oscilleranno tra i 10 e i 7 gradi. Detto questo vediamo le notizie che appaiono sui giornali oggi, a partire dal resto del Carlino. Vediamo subito la pagina di Fano, dove si riscopre un vecchio e persistente problema, quello della droga. Un problema che forse le feste avevano cancellato, ma in realtà è sempre presente. Allarme droga, c'è un ritorno all'eroina, intitola il giornale questa mattina. L'ultimo episodio è accaduto nel parcheggio di Viale Kennedy, Via Giustizia. Un'overdose nel parcheggio tra le vie Kennedy e della giustizia, ecco la mappa dello smercio in città. Ebbene il caso riguarda un uomo che è svenuto in seguito ad una overdose nel parcheggio appunto nei pressi del cimitero. Si tratta di un uomo di 53 anni, soccorso dai sanitari del 118 del Santa Croce di Fano. L'uomo che in un primo momento appariva in condizioni critiche e ora fuori pericolo, grazie alla cure dei sanitari. Ma il problema rimane. Quanto vi ho detto è accaduto alle 12.45 di lunedì scorso all'interno di una roulotte parcheggiata appunto nel parcheggio. E a fondo pagina abbiamo anche una dichiarazione della responsabile del CERT fanese Mazzoli, Giovanni Mazzoli. Un incremento delle persone in cura evidenzia. Il direttore del Servizio Territoriale delle Dipendenze Patologiche dell'Azur afferma che molto spesso lo stupefacente viene associato alla cocaina. Insomma, l'eroina rimane ancora la sostanza più usata, ma sono cambiate le modalità di assunzione, ben diverse da quelle di qualche decennio fa. Adesso prevedono l'inanazione, invece della iniezione endovenosa, come in passato. L'eroina viene spesso assunta con il crack, che si può fumare attraverso apposite pipe. Quindi una modalità di assunzione più semplice, ma sempre molto molto pericolosa. Carnaroli sul porto, un pugno in un occhio. Ci sono polemiche sull'ultima decisione del Consiglio Comunale di Fano, che si è riunito prima di Natale, per quanto riguarda la previsione di un nuovo cantiere che si installa nella zona portuale, un cantiere della cantieristica, che aumenta di molto le previsioni in altezza rispetto a quelle che erano originarie. Insomma, da 14 passa 24 metri. Abbiamo diverse mal di pancia, sia all'interno della maggioranza che all'interno dell'opposizione. A parte le dichiarazioni dell'ex sindaco Carnaroli, che lo definisce un pugno nell'occhio, questo mega cantiere, qualche perplessità la evidenzia anche l'assessore Mascarin, perché il tema non l'ha votato. Insomma, è uscito dalla Giunta prima che si votasse. Il tema non l'avevo approfondito abbastanza, ha detto Mascarin, per cui ho preferito uscire dalla Giunta. Perplessità sono state espresse anche dall'assessore Dimitri Tinti. Io ho votato a favore, ha dichiarato, anche se ho espresso delle perplessità per quello che riguarda l'impatto ambientale. E in Consiglio Comunale vi ricordo le perplessità espresse sia da Stefano Marcheggiani, sia dal consigliere Cora Fattori. Perplessità per quanto riguarda l'aspetto architettonico. Secondo punto è la procedura di come si è arrivati alla variante, cioè che Wider subentrava nella concessione rispetto a quella che era prima. Che significa questo fondo dell'articolo pubblicato dal Carlino? Significa che ci sono perplessità per quanto riguarda l'aspetto estetico, l'impatto ambientale di questa nuova costruzione all'interno del porto e soprattutto le modalità di subentro di questa nuova società, la Wider, che ha detto che farà l'investimento solo se la Giunta approverà questa variante. E poi, insomma, proprio una variante non è in quanto modifica soltanto alcune cose di carattere urbanistico. Il maggiore sostenitore invece dell'investimento è il vice sindaco e assessore all'urbanistica Fanesi. Ancora sul resto del Carlino, passiamo a Marotta, non al muro, sì al mare, ecco il fronte antibarriere. E rispunta un po' a un problema che sembrava assopito, quello delle mega barriere fonoassorbenti che dovrebbero costeggiare tutta la ferrovia lungo la costa. Un muro che ovviamente fa un impatto ambientale, anche questo, molto molto forte. E in più vieta la vista del mare a chi transita nella nostra regione. Il comitato che sta combattendo contro il progetto scrive al sindaco e al presidente della regione, Acquaroli. È una battaglia contro un progetto che dovrebbe assicurare l'alta velocità delle ferrovie dello Stato, ma allo stesso tempo costituisce una bruttura che, secondo il comitato, è da evitare. Accoglie al Metauro, acquisto in comune, una spinta per i negozi. Sono stati distribuiti in questa località 400 buoni del valore di 20 euro ciascuno a 25 esercenti. Tali buoni sono ancora consegnati agli esercenti a fronte di una spesa di almeno il doppio del valore del buono e quindi dai 40 euro in su. Cioè, se un cliente va da questi negozianti a fare una spesa oltre i 40 euro, riceve questo buono. Il buono può essere speso in un altro negozio aderente entro la data del 4 gennaio. È una iniziativa interessante presa appunto dal sindaco di Colli al Metauro. E siamo nella pagina di Urbino. Area filtro liberata dai pazienti Covid lo chiede insistentemente il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, il quale tira un sospiro di sollievo ma il tono non è affatto più sereno, diciamo così, perché la dinamica di questa vicenda rischia di lasciare conti in sospeso se non si chiariscono diverse cose secondo il sindaco. Il sindaco poi si dichiara stanco di sapere le cose all'ultimo minuto senza avere la possibilità di esaminarle, di confrontarsi, di studiarle. Ho invitato più volte, afferma Gambini, l'assessore regionale alla Sanità, Saltamartini, a relazionare in Consiglio Comunale. Lo ha fatto anche nei confronti del Presidente Acquaroli, il quale si è dimostrato disponibile, ma deve ancora fissare l'appuntamento. Insomma, va bene che l'area filtro sia stata liberata dai pazienti Covid, come voleva il sindaco, ma ci sono altre cose da chiarire. E poi sempre a Urbino, dai depositi di Brera ci ridiono la pala del Viti. Ebbene, recentemente sono stati distribuiti, sono tornati a Urbino cinque quadri molto importanti che sono stati presi, diciamo così rubati, dall'esercito di Napoleone durante l'invasione in Italia e portati a Brera. Sono stati restituiti e questo ha così determinato una grande soddisfazione per quanto riguarda gli operatori culturali della città ducale. Però c'è ancora un quadro che viene custodito nei depositi della Pinacoteca di Brera. In realtà è un quadro molto importante per Urbino, in quanto è un capolavoro di un pittore che è nato ad Urbino, ovvero il Viti. Si tratta della Vergine annunciata dai Santi Giovanni Battista e Sebastiano, forse il massimo capolavoro delle urbinate Timoteo Viti, che a Brera già ci dimenticato nei depositi. E lo vediamo qui in questa immagine, il quadro del Viti, la Madonna annunziata, vediamo qui l'angelo che annuncia appunto la nascita del Redentore, un San Giovanni Battista e un San Sebastiano, un bellissimo quadro che potrebbe avere un ruolo di rilievo nei reparti, nelle strutture espositive della città ducale. A questo punto vediamo subito quello che dice il resto del Carlino nella pagina di Pesaro. Si parte dalla cronaca e vediamo un ritorno sul delitto che è accaduto a Fanano, nei pressi di Gradara. Uccisa con sette coltellate anche alla schiena, l'autopsia rivela la lotta per sopravvivere della vittima, ed è questa la vittima. Guardate, si tratta della compagna della moglie, di Vito Cangini, l'omicida ottantenne che ha sopraffatto la moglie dopo aver vinto la sua resistenza con un fendente al cuore, ma prima ha dato altri cinque fendenti che hanno causato ferite non mortali. L'ultima purtroppo è stata quella decisiva. L'ottantenne comparirà davanti al GIP Gasparini per la convalida del fermo per omicidio. Una recente devastante norma a Bavaglio ha causato il blackout informativo di ore sul omicidio, è precisa inoltre il Carlino. Troppe file, stop vaccini per chi non prenota, accesso diretto garantito solo alle prime dosi. Quindi oggi si cambia a muraglia. Le ultime file per chi voleva la terza iniezione, ma tutto il mese di gennaio è già occupato. Ebbene, senza prenotazioni potranno recarsi a vaccinarsi soltanto chi deve fare la prima dose. Gli altri dovranno tutti prenotarsi. E questa è la novità che annuncia appunto il giornale per quanto riguarda la vaccinazione. Bus, la FFP2, è un optional. Tanti non la usano, eppure dovrebbe essere obbligatoria. In viaggio sui mezzi cittadini. Gli autisti il controllo è un problema, dicono. E i giovani sono più ligi, sono quelli che osservano di più le norme. Quelli più disattenti sono gli anziani. Zona franca anche sul Green Pass. Insomma, c'è chi lo richiede, chi controlla, chi non ce l'ha. Insomma, la situazione viene presa, come dice il Carlino, un po' sotto gamba. In realtà è molto molto importante osservare le norme. Secondo il nuovo decreto, sui mezzi pubblici ora potrà salire solo chi sarà in possesso della mascherina FFP2 e del Green Pass. Ormai la chirurgica, la mascherina chirurgica, non basta più. Pavan dona il midollo per il figlio leucemico. Si tratta dell'ex allenatore della VIS che il prossimo 11 gennaio giocherà la sua partita più importante. Non è una partita di calcio, ma è una partita per la vita. salvare il bimbo dalla malattia. Alla fine del lockdown abbiamo avuto la notizia da lì ho deciso di mollare, dice l'ex allenatore Simone Pavan che ha così smesso di lavorare per dedicarsi appunto alla salute del piccolo e poi ci sarà appunto questo intervento che speriamo sia decisivo per salvare la vita al bambino. A Pesaro cambia la giunta, ci sono dei nuovi arrivi e delle uscite. Appunto questo articolo evidenzia la nuova composizione dell'esecutivo pesarese. La nuova giunta entrano Murgia e Bandolfi, la prima al posto di Giuliana Ceccarelli dei servizi educativi. Il secondo invece sostituisce Sara Mengucci ai servizi sociali Bozzi, Pozzi va ai lavori pubblici. E vediamo qui l'assetto appunto della giunta con le novità Matteo Ricci sindaco, Daniele Vimini vice sindaco e assessore alla bellezza, Enzo Belloni assessore all'operatività, Francesca Frenquellucci assessora all'innovazione e alla partecipazione, Camilla Murgia la nuova assessora alla gentilezza e alla crescita, Riccardo Pozzi assessore al fare, Andrea Nobili assessore al rigore, Luca Pandolfi assessore alla solidarietà, Mila Della Dora assessora alla rapidità, Heidi Marotti assessore alla sostenibilità e alla coesione. Vedete come le deleghe, come gli assessorati sono stati cambiati a livello della nomenclatura, della denominazione rispetto ai vecchi titoli del passato. Ora si parla esattamente di operatività, di bellezza, di gentilezza, del fare, del rigore, insomma, però insomma la sostanza non cambia, è sempre quella. Vediamo ancora dramma a casa, 1.472 famiglie arrancano, la metà ha ottenuto contributi per gli affitti, molte si sono messe in fila per avere agevolazioni sulle bollette e altre spese vive. E' ancora un altro articolo sulla povertà imperante, sulla povertà presente, che di fronte ad una crescita rapidissima del caro vita si trovano in difficoltà. E poi abbiamo una dichiarazione dell'assessore Belloni a fondo pagina, l'amministrazione concorre ad un bando nazionale per 12 milioni di euro per restaurare i vecchi alloggi delle case popolari, risistemiamo immobili popolari, dice appunto l'assessore Belloni. Ora diamo un'occhiata invece al Corriere Adriatico dove vediamo che la pagina di Fano è dedicata invece alla situazione dell'aria e alla situazione dell'ambiente. Vediamo l'apertura. Aria inquinata a Bellocchi, 43 gli sforamenti registrati. L'assessore all'ambiente Brunoli segnala il miglioramento perché nel 2020 furono 78. Prenderemo altre misure. Ovvero, sì, sono ancora superiori al consentito gli sforamenti nella zona industriale di Bellocchi che significa che la presenza di polveri sottili è superiore ad un limite di rischio. Però, insomma, questi sforamenti sono diminuiti rispetto al 2020. invece per quanto riguarda la centralina di via Montegrappa una centralina che monitora soprattutto il transito dei veicoli dei veicoli leggeri dei veicoli pesanti in modo particolare quelli che escono anche dalla superstrada e si innestano nella statale adriatica vediamo che lì la situazione è invece sotto controllo perché gli sforamenti sono stati soltanto 17 rispetto ai 35 tollerati non dico consentiti dico almeno tollerati. Un'altra bella notizia è quella che da ieri è apparso sul albopretorio del sito del Comune il bando per la realizzazione dei lavori della grande rotatoria del Codma un incrocio molto molto pericoloso quello che esiste tra le vie tra le vie appunto che danno che vanno verso la zona industriale perché lì sono verificati molti molti incidenti due rotatorie nell'incrocio pericoloso del Codma sopralluogo del sindaco e assessore per industriare il bando pubblicato ieri e qui vediamo il sindaco Massimo Seri con l'assessore lavori pubblici e viabilità Fabiola Tonelli e l'assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini una crocevia con più incidenti che dovrebbe essere resa più sicura con questa realizzazione si pensa che i lavori dovrebbero iniziare intorno a Pasqua insomma in primavera rimborso spese per i volontari in servizio all'Hub vaccinazioni al Club Mattei 21.000 euro dei 40.000 per le attività socio-assistenziali e in questo articolo c'è l'elenco di tutte le associazioni che per quello che hanno fatto hanno ricevuto contributi dal Comune sono 19 in tutto i beneficiari 19 le realtà che hanno concorso alla distribuzione dei fondi e che sono state tutte ammesse alcune delle quali già gratificate per altro genere di progetti sono stati erogati complessivamente dall'amministrazione comunale 39.300 euro che però più della metà 21.000 sono stati concentrati come abbiamo detto al CB Club Mattei quello della protezione civile nel Consiglio di Natale tre pacchi per i fanesi è un articolo che riguarda le rimostranze del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'ultima seduta del Consiglio Comunale si tratta di una posizione contraria alla mozione del Consigliere Carboni per quanto riguarda la sanità quell'altra alla variante proposta dall'assessore Fanesi per il nuovo cantiere della cantieristica al Porto e infine la persistenza dei fanghi di Torrette a Fantasy World nonostante che ormai quant'è dal 2011 mi sembra insomma da tanto tanto tempo sono lì e dovrebbero essere rimorsi invece la loro persistenza viene prorogata di anno in anno questa volta non è colpa del Comune è colpa della ditta che dovrebbe prelevarli e portarli nella cassa di colmata di Ancona che è stata esclusa dal dal bando dalla insomma dalla graduatoria e quindi ha avanzato un ricorso al Tar a Isola del Piano un rilancio operativo e lavori per la fattoria della legalità in questa associazione sembra che presidente dovrebbe essere Lorenzo Alessandroni che dovrebbe prendere il posto di Michele Altomeni che è uno dei fondatori dobbiamo ripartire dopo la pausa del covid ha detto Alessandroni invece a San Lorenzo in campo si parla di lavori pubblici un bando per assumere due tecnici addetti alle macchine operatrice e quindi il comune di San Lorenzo ha avviato anche la messa in sicurezza del ponte per il cimitero si tratta della sistemazione della strada sempre molto molto trafficata che conduce dal cimitero di San Lorenzo in campo al confine con la provincia di Ancona e il comune di Costelleone di Suasa a comunicarlo è stato il sindaco dell'Onti e poi abbiamo anche una notizia che viene da Senigallia via Mamiani sotto passo Carrabile si punta al nuovo accesso al porto il comune chiede altri sei interventi nell'ambito del progetto di velocizzazione della ferrovia adriatica ma vediamo anche che Ponte degli Angeli ancora senza il pilomat quello che alzandosi è andato a incastrarsi sotto una macchina il ponte resta chiuso alle auto forse bisognerà aspettare fino a metà gennaio per vederlo riaperto ancora qualche notizia per quanto riguarda Pesaro vediamo che il Corriere Adriatico desta la sua attenzione ai problemi dei ristoratori in modo particolare per la fine dell'anno sindrome da disdetta e c'è chi ha rinunciato al cenone di fine anno diversi ristoratori di Pesaro ma di tutta la provincia hanno deciso la cancellazione dei pranzi delle cene a ridosso del Natale in ogni modo per la categoria non sarà peggio del San Silvestro 2020 quando la situazione era ben più grave di quella attuale con la chiusura dei locali però insomma c'è un'altra categoria che protesta ed è quella dei proprietari dei gestori delle discoteche in questo caso viene evidenziata la rabbia così intitola il Corriere di Arzeni Marco Arzeni portavoce del Silb per le discoteche serrate fino al 31 gennaio per loro niente feste per tutto il fine anno 2021 e anche per tutto il mese di gennaio quindi ancora danni economici per questa categoria l'anello ferroviario rimuove l'isolamento infrastrutturale in questo articolo Lorenzo Furlani evidenzia quali saranno i progetti delle ferrovie dello Stato per collegare le marche con il resto del paese in modo particolare per il centro Italia la regione vuole recuperare lo storico tracciato distrutto nella seconda guerra mondiale ovvero la connessione con Fabriano e Orte che rafforzerebbe la sostenibilità economica della Fano Urbino Fano Urbino che pur essendo oggetto di polemiche per quanto riguarda il contrasto con la ciclovia metaurense vediamo che sempre sull'emergenza lo vediamo sempre alla ribalta ebbene l'anello ferroviario in fase di progettazione da parte della regione e delle ferrovie dello Stato dovrebbe collegare i centri della costa con i territori interni delle marche attraverso un tracciato che staccandosi dalla linea adriatica arrivi a Civitanova Marche fino a Fano sdoppiato dalla Falconara Orte con il tratto fino a Fabriano e se si ripristina il tratto tra Pergola e Fabriano e ovviamente tra la ferrovia metaurense e Pergola allora andare a Roma sarebbe molto più agevole e ci vorrebbe meno tempo la squadra di Ricci con i nuovi volti Murgia e Pandolfi nuovi assessori qui vediamo la nuova compagine esecutiva del comune di Pesaro mentre ancora in questa pagina il fatto di sangue che ha funestato le festività natalizie e qui vediamo la foto sorridente di Natalia la cuoca mentre faceva il suo lavoro di cuoca nel ristorante Romagnolo e qui vediamo la casa del delitto nel centro di Fanano appunto nel comune di Gradara vaccini stop all'ammasso agli hub magnoni rispettare regole e file il blocco ai non prenotati da oggi si è reso necessario per l'impressionante calca di lunedì e lunedì veramente è successo il caos ore e ore di attesa per le vaccinazioni e appunto nei centri deputati e poi ancora sul Corriere Adriatico la battaglia per l'acqua arma le fila gli ambientalisti scendono in campo ancora un articolo per quanto riguarda la tutela delle riserve idriche del territorio in questo caso il consigliere regionale Rossi si pone contro il progetto del grande invaso per l'alto Candigliano concludiamo la nostra rassegna stampa per quanto riguarda le notizie di sport vediamo che la visse vuole riconquistare il suo pubblico crollo di presenze in tutti gli stadi per covid e per il freddo pesano di mezza i tifosi Fano invece vede vicina la firma di Olivieri e il baby Fontana va a Casarano intanto Carcalis si prepara al ruolo di centrale Carcalis di origine greca e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno al TG di Fano TV delle ore 20 e 30 buona giornata grazie a tutti